bene siamo qui oggi per fare l'accurazione del video relativo all'esercizio numero 2 quello sugli articoli determinativi plurari andiamo a vedere insieme la risposta la leggerò numerando in modo tale che voi possiate andare a vedere uno gli due i tre gli quattro le cinque le sei le sette le otto gli nove le dieci le 11 i 12 gli 13 le 14 gli 15 i 16 le 17 le 18 i 19 le 20 gli 21 gli l'avete fatto giusto? bene speriamo di sì avete tenuto a conto se si tratta di maschile o femminile? io ve l'avevo scritto accanto quindi se avete fatto attenzione sicuramente siete riusciti a fare l'esercizio bene vi auguro una buona serata ci vediamo la prossima volta un auguro in particolare a tutti per le vostre lezioni e per quello che state imparando un bacione ciao susi